La maggioranza ha scelto di blindare la manovra finanziaria per impedire che venga migliorata. Purtroppo ancora una volta pagheranno i costi i soliti, il lavoro dipendente, i redditi medio-bassi, non viene chiesto un solo Euro a chi ne guadagna milioni durante l'anno. Noi diciamo che è il momento di cambiare pagine, è il momento di chiedere sacrifici a chi ha di più e non toccare i redditi di chi ha di meno. Allora è la prova di come questo nostro partito, il Partito Democratico, sia al servizio della comunità sia al servizio dei cittadini 365 giorni all'anno, non solo quando ci sono le elezioni, non solo quando ci sono le campagne elettorali, non solo quando ci sono da chiedere i voti ai cittadini. Noi abbiamo fatto una scelta chiara che ci qualifica come PD essere al servizio 365 giorni all'anno. La presenza di Dario Franceschini, capogruppo alla Camera, oggi qua a Senigallia alla festa del PD è la prova di questa serietà che contraddistingue il Partito Democratico, che vuole essere riferimento certo per i cittadini in un momento molto difficile per la comunità. la cosa più odiosa perché si usa un argomento che ha un fondamento, sicuramente non è la priorità per gli italiani.